Benvenuti a Il punto, trasmissione settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa, politica, economia, attualità, con due consiglieri regionali nel nostro studio. Marco Vinicio Guasticchi, consigliere del Partito Democratico e vicepresidente dell'Assemblea Legislativa e il capogruppo della Lega Nord Umbria, Emanuele Fiorini. Eccolo. Cominciamo con Guasticchi, cominciamo con l'attualità. Il PD ha congresso, ma non è che col congresso PD arriveranno grani dentro l'Assemblea Legislativa, visto che è stato un po' movimentato. Non penso che avrà ripercussioni dirette nei livelli istituzionali, anche perché i temi politici discussi hanno poco di politico e molto di accomodamenti correntizi, tanto per essere chiari. Per il resto sono convinto che questa prima fase congressuale, perché questa è solo una fase che riguarda i comunali e i provinciali, poi sui provinciali ci sono mille limitazioni, perché nasceranno anche le federazioni territoriali, quindi diventa un passaggio quasi edulcorato dagli eventi poi successivi. Ma la grande sfida sarà per le politiche da una parte e subito dopo, perché sarà fatto dopo, il congresso regionale, dove grazie a Dio potranno partecipare al voto sia tesserati che non per eleggere il segretario regionale del partito. Dico questo perché è ora di uscire anche da questo tecnicismo esasperato, dove i regolamenti dei congressi devono passare per un'analisi approfondita di qualche scienziato, perché prevedono clausole o temperanze talmente bizantine che a volte viene voglia di abbandonare tutto. Io più di una volta sono stato di lì per dire, ma scusate, ma per scegliere il meglio bisognerebbe ampliare la platea di coloro che vogliono partecipare. Invece mi sembra che l'obiettivo primario, almeno a livello locale, è quello di restringere, 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 per evitare appunto la discussione ed evitare il coinvolgimento. Io non sono per il centralismo democratico, altrimenti sarei stato iscritto al Partito Comunista Italiano, con tanto rispetto dico questa cosa. Sono per una democrazia diffusa e amplia e mi auguro che su vari altri passaggi, non questi sicuramente, tali peculiarità possano essere valutate e verificate. Passerò per il solito rompischema, si può dire questo, rompischema, ma effettivamente se uno oggi vuole fare realmente politica, non può pensare di giocare sulla difensiva, pensare di difendere il proprio piccolo ruolo avuto più o meno fortunosamente e deve cercare anche di guardare al futuro. Io vorrei ricordare a tutti che nel 2011, febbraio 2011, il primo che credette nella parabola di Renzi fu io. Lo invitai a Perugia al Capitini per presentare il suo libro e mi ricordo che in quella sede c'erano più di mille persone, ma non c'era nessun dirigente di partito, che invece ci ritrovarono pochi giorni dopo invitando non D'Alema ma Bersani. Ecco, oggi se devo fare una valutazione a tanti anni di differenza, di distanza dal 2011, debbo verificare che il mondo si è completamente capovolto, per cui io sono tornato ad essere una minoranza ideologica sparuta, mentre tutti i contras, i feroci anti-renziani che ho conosciuto e ho subito in questi anni, sono diventati iperrenziani. E questo è un messaggio importante da recepire, perché vuol dire che coloro che è arrivato il momento di capire un po' l'evoluzione. Sono convinto che Renzi è l'unica possibilità serie che abbiamo per il nostro paese, però è anche vero che la vicenda renziana era stata caratterizzata dal coraggio di rompere con i vecchi schemi. Spero che Renzi oggi, dopo questo tour che farà in treno, dimostrerà un'altra volta, perché sono convinto che sarà in grado di farlo, che la politica si fa puntuare andando in avanti e non difendendo il passato. Chiarissimo, dunque, anche novità in vista comunque per il Partito Democratico. Lega Nord invece su quale strategia? L'alleanza con il centrodestra o un orientamento? Le faccio anche un esempio, Fiorini. Ha visto l'Austria. Ci sono governi che stanno mettendo in pratica ciò che la Lega, da Salvini in giù, ipotizza per l'Italia. Per inciso, chiusura delle frontiere, insomma, ero cose di questo genere. Qual è la strategia della Lega? La Lega, diciamo, che porta avanti un movimento delle idee che si avvicinano al popolo, cioè nel senso di stare in mezzo, in mezzo alla gente, ascoltare le problematiche e portarlo nelle stanze istituzionali per cercare di risolvere quello che oggi è un vero disastro, un disastro a livello lavorativo, sociale. E si stiamo facendo carico, si sta facendo carico di ascoltare i cittadini, di tornare nelle piazze. Qui vorrei anche aprire una parentesi. Associare la democrazia al Partito Democratico, questa è buffa, è una cosa buffa, perché il Partito Democratico tutto è meno che democrazia. Qua invece la Lega sta cercando di aprire a più persone che collaborino con noi, che esprimono la propria opinione, per un progetto importante di sviluppo, di crescita e per arrivare poi a governare. L'Austrian è un esempio, etichettati come populisti. Non è vero perché se essere direttati populisti significa difendere l'italiano da questa forte immigrazione, se il populista significa difendere il lavoro dalla disoccupazione, allora secondo me qui è da riscrivere l'Italia, la storia dell'Italia, della politica. Sottolineo una cosa che il collega Guasticchi diceva prima, che è importante, quando lui dice che la politica non si fa per le poltrone. Ecco, questa la condivido. La politica deve ascoltare, ripeto, le persone, le poltrone vengono poi, ma ora questo sistema, come abbiamo visto anche tra l'assessore della sanità e la Presidente Marini, in questioni back and down, è stato immobilizzato per oltre tre mesi tutto il Consiglio. Io dico che la gente bisogna dargli delle risposte concrete. Basta questi giochi di potere, non importa nulla. Il popolo, la regione ombra, la nazione ha bisogno di risposte concrete. Molto chiaro anche Emanuele Fiorini, capogruppo della Lega. Io ho già pronta la seconda domanda, mi rivolgo subito a Guasticchi, che ha sorriso prima, quando è arrivata una critica al Partito Democratico. Claramente perché stivo molto Emanuele, per cui da lui l'accetto. Da molti altri non l'avrà accettato. Benissimo. La seconda domanda che ho da proporvi a entrambi questa volta. Parliamo dell'Umbria. Le emergenze sono varie, il lavoro in questi giorni si fa sentire più che mai, perché in piazza a Roma, davanti alle sedi istituzionali, ci sono operai della Nestlé, della Colussi, la Perugina. Io la chiamo sempre la Perugina, più che Nestlé, anche se poi c'è il discorso delle multinazionali. Prima ancora, insomma, la Merloni. Abbiamo perso dei pezzi importanti. I dati economici ultimi dicono che l'Umbria non sta andando bene, il PIL non va bene, e Dulcis in fundo è stato registrato di questi giorni, se ne parla, anche una certa fuga di giovani dall'Umbria verso posti dove evidentemente c'è più lavoro. Quindi il lavoro è un problema, Guasticchi. È un'emergenza da affrontare. È un'emergenza, secondo me, molto più grave di quello che appare, perché noi giustamente siamo focalizzati sulla crisi delle grosse aziende, dei grandi gruppi. In realtà non teniamo conto che una crisi altrettanto ribaltata e molto più grave è rappresentata da tutto l'indotto che queste grandi aziende hanno nel territorio. C'è centinaia di piccoli aziende artigiane con magari una decina di operai che stanno chiudendo. E stanno chiudendo per vari fattori. In primi, e non vengono assistite, secondo me, come invece bisognerebbe fare. L'imprenditore piccolo si ritrova schiacciato tra le banche che applicano in maniera pedissequa quelle norme che dall'Europa ci sono state imposte. Perché questo ragionamento non viene fatto normalmente, ma dobbiamo ricordare che quando sono nati dei sistemi di controllo dei bilanci delle aziende e di valutazione, che era Basilea I e poi Basilea II, furono create con una sorta di utopia, cioè quello di pensare che l'economia sarebbe stata costantemente in crescita e quindi questi erano elementi di controllo sull'espansione economica. In realtà, poi, soprattutto Basilea II, è stata terrificante come in termini di ricadute finanziarie, in una fase proprio di discesa di difficoltà dell'economia, per cui le banche oggi si nascondono dietro l'alibi dei bilanci delle aziende inserite a computer e che non rispettano, perché è impossibile rispettarli, i parametri minimi per fare credito. Ecco, solo questa partita ha fatto fallire centinaia e centinaia di aziende in Umbria, e adesso parliamo dell'Umbria. Un approccio eccessivamente rigido da parte dell'ufficio delle entrate, da parte dell'ufficio del lavoro, particolarmente rigido, che non solo sanziona, che è giusto che sanzioni, ma poi applica delle azioni talmente devastanti che fanno chiudere le aziende. In molti casi abbiamo assistito al suicidio di imprenditori che non riescono più a stare dietro all'incombenza finanziaria che questo sistema così goffo, così poco portato allo sviluppo economico sta imprigionando l'economia della nostra regione e del nostro paese. Quindi stiamo andando verso una situazione di non ritorno, dove la burocrazia ha il sopravvento sull'imprenditoria. L'imprenditoria deve avere delle condizioni per cui i soldi che si riescono a guadagnare facendo impresa magari possono essere rinvestiti sempre a favore dell'impresa per consentire maggiori posti di lavoro e soprattutto creare le condizioni per cui ci sia anche un indotto economico importante. Invece vediamo che le grandi aziende a livello nazionale, anche il caso della Nestlé, vengono finanziate con milioni di euro di soldi pubblici e non c'è nessuna clausola vincolante che leghi queste risorse all'occupazione o quantomeno al non creare disoccupazione. Quindi noi vediamo, questi grossi gruppi prendono risorse e licenziano e lo Stato non può fare nulla. D'altro canto poi c'è uno Stato che invece si vendica sui piccoli e medi imprenditori e li strangola finanziariamente. Perché lavorare come si sta facendo sul recupero forzato dei contributi, sull'impossibilità di poter rateizzare quanto più a lungo possibile magari tutto ciò che, tutti i contributi che le aziende devono pagare consente poi alla fine una chiusura devastante di tante, tante piccole imprese. Quindi c'è il grande tema che fa scendere tutti in piazza ed è giusto che sia così. Nestlé, nessuno scende in piazza per le centinaia di piccole aziende che falliscono. E questo è un fatto ancora più grave perché poi non sono 300 ma sono 3.000 i lavoratori che perdono il lavoro. E questo comporta poi un impoverimento generale, comporta situazioni drammatiche perché in molti casi, negli anni passati, c'è stato un boom anche edilizio legato al fatto che due stipendi in famiglia con la pensione magari dei genitori consentivano anche un indebitamento per comprare una casa. Oggi quelle partite che furono accese allora non hanno più quelle risorse economiche necessarie per il loro mantenimento. Ed ecco che allora viene fuori anche questa profonda crisi sociale legata all'impossibilità di sostenere mutui che erano stati accesi in momenti diciamo economicamente più positivi. Quindi è un'atenaglia che si sta stringendo. E allora cosa fare? Certo la regione può fare poco, può mettere risorse, ma sono sempre risorse limitate. Cioè dovrebbe, e questo il Consiglio regionale esercitando il potere di iniziativa potrebbe fare qualcosa di importante, proporre delle con emendamenti o con leggi regionali o addirittura col potere di iniziativa facendo leggi, proponendo leggi nazionali per cercare di sgravare le imprese quanto più possibile di questi tributi forzosi, impattanti che stanno distruggendo la nostra economia. E' un discorso un po' da Brexit, lei è un po' rivoluzionario come... Beh diciamo che l'Europa è importante, fondamentale per il nostro futuro, ma noi non possiamo essere l'anello più debole. Io vorrei stare dentro con la stessa dignità di tanti altri paesi. E le regole non vanno cambiate solo per gli altri paesi, soprattutto sui bilanci. Se per la Spagna, per la Francia si deroga, per l'Italia si deroga allo stesso modo, perché l'economia nostra ha bisogno di aiuti in questo momento. Come minimo. Fiorini, tra i dati che leggevo prima sul lavoro, sono in calo anche gli immigrati nella nostra regione, secondo le ultime stime. La colpa anche di questa è la crisi economica, perché anche loro... C'hanno paura della Lega. Oppure hanno paura della Lega, non lo so. Ce lo dico. Parto dall'ultimo argomento che avete affrontato con Guasticchi. Concordo su un aspetto fondamentale. Da ex operai Ottisan, perché anche le acciaierie hanno fatto dei licenziamenti, sono in crisi attualmente, non bisogna solo scendere in piazza, oppure come dicono noi, chiudere la stalla quando sono usciti i boi. Perché? Perché il problema, essendo queste multinazionali europee ed ex europee, noi dobbiamo andare a battere i pugni in Europa per farci rispettare e per far sì che l'Italia ritorni ad essere sovrana e un popolo, una nazione importante che conti. Noi come regione possiamo dire che a livello anche governativo, apre una parentesi, il governo centrale non è che ha avvantaggiato con Joe Baxter o tante altre cose, poi qui si apre un tema gigantesco. Non è che ha aiutato le imprese, oppure si è fatto forte di fronte alle multinazionali che sono venute nel nostro territorio a dettare leggi. Le multinazionali che da noi vogliono venire a fare impresa, ben vengano, ma non possono fare da padre e padrone. Questo assolutamente no, perché poi a rimetterci sono gli operai. Detto questo, sì, le manifestazioni, sì tutto, ma noi, ripeto, dobbiamo battere in forti pugni in Europa. Perché ricordo, per la Thyssen, quando fece interrogazione europarlamentare, chiedendo qual era il futuro della Thyssen a Terni, lo stabilimento ternano, la commissione industria di sposi, che loro interessava un singolo stabilimento, ma il mercato europeo. Eh no, signori miei, questo non va bene. Vieni a casa mia e decidi pure quello che fare o non fare, le regole, le regoliamo insieme. Dobbiamo tutelare i lavoratori, come diceva prima Wasticchi, che ha fatto un'ottima osservazione in merito, ma dobbiamo alzare la voce e farci rispettare. Detto questo, l'immigrazione che è che è in calo queste solità di De Paparelli, secondo me. Questa non è l'assessore, ma anche l'assessore ha detto giorni fa le stesse cose. Secondo me Paparelli dovrebbe fare una cosa, dire queste cose ai cittadini. Secondo me oltre che pomodori votano anche le uova, perché siamo arrivati anche in l'ultima notizia di cronaca l'altro giorno a Terni un accoltellamento, cioè Terni per esempio è una città invivibile, stanno succedendo troppe cose e loro dicono che va bene tutto, non va bene niente. Il progetto per Terni sicura 40.000 poi 56.000 euro, caprodotto, zero, quei soldi dove sono andati? Va messo in campo un sistema, un progetto serio di controllo del territorio, quei 40.000 euro o 56.000 euro si possono investire facendo un bando per gli istituti di vigilanza privati dove fanno un battuigliamento maggiore nelle zone quelle più critiche e nei regioni più critici. Oggi noi ci abbiamo, anzi, qualche tempo fa, 3-4 mesi, chiamavamo in commissione i due prefetti, Terni e Perugia. I stessi prefetti dichiaravano che il 50% degli immigrati arrivavano sul nostro territorio e il giorno dopo scompariva. Allora, noi non sappiamo chi sono, che fanno, dove sono, non sappiamo nulla, sono fantasmi in giro del territorio. Quello, dubbiamente, non è un dato che viene calcolato sugli immigrati, sul numero degli immigrati presenti nel territorio. Poi anche la settoria è un'altra cosa, con tutto rispetto per tutti. Noi siamo in forte difficoltà sociale, lavorativa, non possiamo accogliere, anche perché quelli che escono dalla guerra sono il 5%, ma questo non significa essere razzisti, questo significa tutelare i nostri cittadini, gli Umbri, italiani, Iternani, Perugini, tutelare la gente nostra, perché i nostri non gli aiuta nessuno. Ci sono persone con gli sfratti in mano, no, e non hanno perso pure il posto di lavoro e non gli aiuta nessuno. Qui un appello è la gara, e a volte pure quella chiude le porte, bisogna aiutare prima i nostri cittadini. Molto chiaro anche l'intervento di Emanuele Fiorini. Negli ultimi minuti ho ancora qualche domande da rivolgere a entrambi. Una la vorrei brevemente trattare perché è un argomento di cui si parlerà in aula e noi siamo un attimo prima della riunione d'aula. La moschea di Umbertide da parecchio gira per l'aula, è un'iniziativa tra l'altro della Lega Nord. Adesso siamo al dunque. Però so che anche Guasticchi ha la sua idea come cittadino anche interessato sulla vicenda di questa moschea o centro culturale. Non so più bene come etichettare questa costruzione. Allora, questa oramai è diventata una vicenda patetica. Non c'è altro termine. Si è voluto dare una dimostrazione non so di cosa ad Umbertide ovvero si è voluto creare le condizioni e il comune le ha create perché il terreno venduto è trasformato per far sì che questa struttura venisse costruita era del comune di Umbertide. Ricordo che quel terreno era destinato a tutt'altre funzioni per cui c'è stata una variazione urbanistica per far sì che potesse nascere su quell'area una struttura associativa. Allora, la struttura associativa da che mondo è mondo? Ha delle dimensioni e diciamo un assetto che deve privilegiare la funzionalità. Allora, invece, si forza la mano e si fa un progetto dove si crea una vera e propria moschea con tanto di potenziale minareto con tanto di cupola con tutte le caratteristiche che potrebbero non stonare in un paese arabo e diventano realmente un elemento di provocazione in un paese cattolico e un paese laico cattolico ma sicuramente che non accetta imposizioni culturali dall'esterno. Una vicenda stranissima sui fondi da dove sono arrivati. Si dice che dopo tanti anni è stato fatto un bilancio mi piacerebbe vederlo con il bilancio nel dettaglio per il resto io non capisco perché si deve imporre a una comunità di 18.000 abitanti come quella di Umbertide una struttura che sia un centro culturale islamico anche peggio secondo me che di una moschea e soprattutto oltre che imporla pretendere che l'accettino a scatola chiusa cioè si dice noi l'abbiamo fatta chi non accetta questo progetto è un razzista cosa che non è assolutamente vero e ci impone quindi una presenza di forte provocazione ad una comunità che da sempre si è caratterizzata per la grande disponibilità per la grande voglia di integrazione con tutte le culture e con tutte le persone che sono venute negli anni nella nostra città ecco questo è il tema e soprattutto si continua a far finta che il problema c'è a fase alterna in realtà quella moschea perché lo stesso sindaco disse pubblicamente rivolgendosi al ministro Minniti che era una moschea si è fermata si è fermata per quale motivo? si è fermata perché hanno finito i soldi come dice il cosiddetto imam ma in realtà si è fermata perché probabilmente sono finiti i flussi di risorse che hanno consentito la costruzione della moschea e questo grazie anche alla forte azione di interdizione che noi abbiamo messo in campo devo dire insieme anche ad altri movimenti e partiti perché la Lega anche se da presupposti diversi però ha portato avanti insieme anche a noi insomma una battaglia seria nel dire che ben venga la massima integrazione ma l'integrazione non deve essere una forzatura culturale noi abbiamo una cultura cattolica abbiamo una cultura costruita unitare repubblicana evoluta occidentale che è stata costruita nei centinaia di anni ed è impensabile che debba essere assoggettata e fortemente condizionata da una cultura diversa diametralmente opposta non accettabile culturalmente da noi ma che per essere progressisti bisogna far finta che c'è una cultura dominante ecco a questa imbecillità che purtroppo la sinistra per tanti anni ha fomentato perché bisogna essere anche autocritici no su questo si è nato poi quello che è nato è nata la mosca d'Umberti e stava per nascere la mosca di Marciano presto nascerà qualche altro progetto folle che qualche è nostalgico cercherà di mettere in campo ecco mi auguro che visto che la politica oggi si basa molto sui programmi e sulle persone anche gli elettori cominciano a valutare coloro che fanno e lavorano a favore della comunità e quelli invece che lavorano per i propri fini personali Fiorini non so come la pensa ma se ha sentito le parole del presidente Guasticchi sono quasi dalla stessa parte questo è un centro-sinistra razionale con i piedi per terra e non ideologicamente traviato io aggiungo un aspetto innanzitutto è da capire dal mio punto di vista quanti centri culturali islamici sono presenti nel territorio perché dietro a quelli si nascondono vere e proprie moschee non possiamo farci diciamo assediare in questo modo non possiamo perché dietro si nascondono anche dell'atrocità e soprattutto non possiamo non possiamo abbassarci alla loro cultura perché tu vieni a casa nostra casa mia rispetti facendolo breve rispetti la mia religione lungo il crocifisso il prosciutto tutto quello che è fa parte della mia cultura indubbiamente per questo sottolineo perché è importante indubbiamente per contrastare una cultura diversa dalla nostra serve che la nostra cultura sia altrettanto forte questo è dove secondo me bisogna puntare poi indubbiamente abbiamo visto anche il collega Mancini quello che ha fatto in merito alla moschea perché è stata non è stato non è stato ascoltato non è stata discussa per niente la mozione perché la parte della maggioranza era se n'è andata dall'aula è un tema che va affrontato serio perché il partito democratico se pensa da prendere i voti degli islamici secondo me non ha capito niente anzi che succedeva che fra poco gli islamici andranno al governo dell'Italia su questo naturalmente l'aula ci torna perché è all'ordine del giorno ci sono scampoli qualche minuto Fiorini per lei questa domanda la sua legge sulle case popolari che ha cambiato un po' la situazione per cui servono cinque anni di residenza in Italia prima di poter accedere e poi c'erano anche altre cose interessanti mi ricordo sui padri separati c'era una clausola ecco è tutto a posto i padri separati perché sono quelli che si ritrovano anche loro senza la casa per decisione del giudice per far capire di che parlava la legge la proposta di Fiorini allora questa sì qui sottolineo è stata l'unica legge che è passata delle opposizioni l'unica legge sulle case popolari firma Lega Nord che in prima persona mi sono impegnato dopo diversi mesi di lavoro per trovare le formule che è stata diciamo condivisa anche con il collega Quasticchi che mi ha dato il suo supporto scusate dove abbiamo introdotto 5 anni di residenza perché per le condizioni economiche di saggio che vivono i nostri cittadini e di conseguenza per varie altre critici era giusto che dovessero dei vantaggi rispetto proprio consentire il termine dagli ultimi arrivati punto 1 punto 2 abbiamo aperto i coniugi separati che in caso di divorzio devono lasciare la casa dell'altro coniuge che nelle vecchia legge non potevano solamente presentare la domanda perché la casa anche se è di proprietà ma lasciata all'altro coniuge comunque faceva reddito e di conseguenza automaticamente veniva escluso coniuge separati e divorziati perché perché pure la Caritas del 2014 ha detto che i nuovi poveri erano divorziati e separati abbiamo dato secondo me un'apertura importante perché così hanno una possibilità magari come avviene in certe situazioni che il coniuge che lascia la casa all'altro coniuge si ritrova a dormire o in macchina o nei garage è stata un'ottima legge siamo andati anche in copertura sui comuni per un altro discorso però come lo ho capito abbiamo poco tempo da approfondire molto ampio il ragionamento il discorso è stata secondo me un'ottima legge non è passata molto nelle televisioni ma sicuramente perché ferma Lega ferma Fiorini di conseguenza se una legge buona è fatta dalla Lega diventa un problema invece no e allo stesso tempo siamo stati attaccati dai sindacati che io anche sapevo la loro esistenza ai quali ho risposto tranquillamente secondo me voi vi dovete far curare qui ci stanno veri problemi anche diciamo di mettersi in mostra non serve mettersi in mostra o quanto ma serve lavorare per il popolo a cui sindacati sottolineo anche oggi fare un documento che io credo anche Quasticchio chi altro firmerà dove chiediamo un controllo degli alloggi pubblici attualmente assegnati vediamo a chi sono intestati che è all'interno perché la legge prevede che ogni anno ci sia un controllo secondo me questo controllo risale agli anni 50 e allora ci torneremo anche su questo il nostro tempo è scaduto ringrazio Marco Vinicio Guasticchi Emanuele Fiorini per una puntata vivace dove abbiamo scoperto anche insospettabili convergenze perché si parla di persone di idee tra due che stanno su schieramenti opposti non sono convergenze politiche sono convergenze di buon senso in molto caso e naturalmente questo lo vedranno anche i telespettatori grazie per averci seguito Grazie a tutti